Il primo bigliettino ci chiede, è di una ragazza Cara Camila, mia madre mettendo a posto la stanza ha trovato il mio vibratore a forma di racchetta da tennis Cosa posso fare? E' tanto complimenti Ma cosa complimenti? Cosa posso dire? Fai come me, naspondiglio tra le racchette da tennis? Ciao facci sapere, grazie! Degiamo subito un altro bigliettino, vi ricordo che i nostri bigliettini sono in forma assolutamente monica Ma GoForest ci chiede Ma come GoForest? Infatti ma GoForest non è il suo vero nome, lui si chiama Michele Foresta Ah, grazie di avercelo detto Quindi Michele ci chiede Cara Camila, la mia ragazza continua a dirmi di non preoccuparmi perché le dimensioni non contano Ma è vero? E beh, certo che è vero Lo sappiamo, ma una donna non contano E come lo si usa, si dice, no? Fatti, sfatiamo una volta per tutte questa leggenda sulle dimensioni Non solo non contano, ma sono fondamentali nella vita di una donna Ma no, perda la testa No, non è vero! Era serena fino a un attimo là C'è sempre detto il contrario Non è vero? No, non è vero Trovate allora voi a fare l'amore con questo? No, 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 no Lasci stare, per fortesia E poi c'è anche un proverbio che lo dice Quale? Non cadi nel fosso se ti attacchi a qualcosa di grosso Non cadi nel fosso se ti attacchi a qualcosa di grosso